Buongiorno, buongiorno. Come stai? Bene. Ti piace sta cosa? Molto. I nostri fan vogliono sapere come ci hai conosciuto? Allora la prima volta che vi ho visti era una serata molto tranquilla, cioè c'erano veramente quasi nessuno. Dopo un po' cominciano ad arrivare persone, tante persone, ancora tante tante persone. Io, ma tu, adesso io sono così ignorante. Allora hanno iniziato a suonare i piedi, cioè da suonare. Tu eri motore. Beh, io sono il motore e voi siete i miei meccanici, perché se non ci siete voi il motore non va avanti. Lo sai sto fatto? E' così anzi, la benzina proprio. Bene, abbiamo cominciato a seguirli un po' ovunque e loro ci vedevano sempre sotto il palco. E loro diventavano ancora qua in tutto il mondo. Sì, poi ci siamo conosciuti così perché mi vedevo sempre alla fine. Mi sembrava lo stesso pubblico sempre. Ma per te i Terra Ros, cosa sono? Cioè? Un momento di evasione. Di evasione? Proprio non pensare a nulla, nulla, assolutamente. Pensare alla loro musica. Siamo il tuo nulla? No. No. Un momento di evasione dai problemi, quindi c'è il nulla che intendevo non far pensare a nulla tranne che a stare bene, ecco. Quindi ti facciamo stare bene? Sì, sì, molto. Senti, c'è un brano in particolare che ti piace. Allora, soprattutto è stupende. La canzone che più mi colpisce profondo è Tarantè. Visto che Tarantè è il brano che ti piace di più, l'ascoltiamo. Io faccio la parte mia e tu vai. Certo. Andai, vai. Tarantè è il brano che ti piace di più, l'ascoltiamo che ti piace di più, l'ascoltiamo di più. Sì, è un brano che ti piace di più, l'ascoltiamo qui ti piace di più, l'ascoltiamo di più, è un brano che ti piace di più, l'ascoltiamo che non fa sentire bene. Grazie a tutti.